Pronti? 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 Non mettere i piedi sul tubo eh! Era da prima questo? Sì Prima C'è il buco eh Vito No fai lì ma c'è il buco Calcola di alzarla un pelino prima e basta Perché passi fuori L'importante è che impegni prima di prendere la pozza Prima della pozza devi già dargli il colpo Fa ruota davanti eh Grazie Io sono passato giro ma non va bene Grazie Gas un po' di erro assicuro che è una delle volte in cui si passa meglio cos'era uno? un tiro delle madonna ha passato di qua e gli ho fatto un zero della mia donna un zero e mezzo un zero favoloso filmato un grattarola e lì ho detto ora faccio saltare mi hanno dato il piede indietro dai grattarola diamo ho capito perchè andiamo su devi andare avanti di qua esatto fallo tutto fino in cima si va beh si può ma adesso parte il canalone strunzo vai davanti che mi scappa da niente